Le misure del Green Pass, che sarà obbligatorio per accedere a numerosi servizi come bar e ristoranti al chiuso a partire dal 6 di agosto, non piacciono molto agli operatori, soprattutto per il delicato momento in cui arriva questa misura, e cioè in piena stagione estiva. Una condizione su cui il presidente provinciale di Fiepet Teramo Gianluca Grimi si dice pronto a nome di tutta la categoria a fare il massimo, visto che l'obiettivo comune è quello di evitare le chiusure. E' ovvio che è una misura che noi non possiamo amare, è una misura di cui contestiamo il timing di introduzione, che però accettiamo perché sostanzialmente veniamo messi di fronte a un out-out o la chiusura delle attività o il lavoro. E a questo punto venga il Green Pass, faremo il possibile e l'impossibile per renderlo efficace tenendo conto soprattutto di una cosa, che gli operatori, i ristoratori, i baristi possono dare informazioni ma non possono in alcun modo intervenire in modo coercitivo sulla clientela. Sostanzialmente non siamo operatori di pubblica sicurezza. Adesso cosa succede, visto che ci saranno ovviamente degli operatori che non hanno tutto il personale vaccinato? Sulla gestione del personale, adesso interloquiremo con il governo, però è ovvio che faremo tutte le precisioni possibili e immaginabili per ottenere la vaccinazione. In realtà sono pochi casi che però esistono e che avrebbero potuto essere risolti già in partenza quando abbiamo chiesto la vaccinazione preventiva per tutti gli operatori turistici e i loro dipendenti. Anche in questo caso interverremo e vedremo che appoggio ci darà il governo in questo senso.